Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Una motivazione semplicissima che costituisce però secondo me uno dei fondamenti imprescindibili di ogni motivazione, di ogni scelta, di ogni crescita, di ogni decisione rispetto a cosa si vuole fare nella vita, a cosa si vuole diventare. In fondo anche una traduzione molto pragmatica dell'insegnamento cristiano, per meglio dire dell'insegnamento di Cristo, che c'è differenza, di Gesù Cristo, the original, che non si può servire Dio e Mammona. E in fondo tutti noi siamo sempre di fronte a questa scelta, che in fondo rimanda ancora all'Antico Testamento, a quella perenne scelta che abbiamo perennemente di fronte, che si rinnova ogni giorno e che costituisce il bene e il male e il bene nel male e il male nel bene. Cioè questa scelta ci permette, anche se fino a oggi abbiamo seguito una strada errata, di cambiarla verso una strada invece che ci porta al meglio, la strada corretta. Ma altresì, mentre si percorre la strada corretta, vi è sempre il rischio di incappare in scelte quotidiane che ci riportano o ci mandano in una nuova strada errata. La benedizione e la maledizione. Viene rinnovato questo insegnamento supremo, l'insegnamento supremo probabilmente della Bibbia, o almeno secondo me è l'insegnamento supremo della Bibbia. E pensate che ho scoperto recentemente che la parola ricchezza in ebraico biblico, che è la seguente, osher, ricchezza, osher, 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 è la stessa parola di benedizione, osher. Osher, ricchezza, uguale osher, benedizione. Ricchezza, benedizione sono la stessa parola. E come ci arriva questa benedizione, questa ricchezza? Scegliendo tra la benedizione e la maledizione, tra Dio e Mammona. Ma attenzione, ancora una volta, è bene ribadire, non si tratta di una scelta di tipo pauperista. O scegli il denaro o scegli Dio. Certo è che oggi Gesù si farebbe un paio di risate, visto come va il mondo. Quando lui disse non si può servire Dio e Mammona, non intendeva che poi si sarebbe seguito soltanto Mammona. Intendeva qualcos'altro. Ad ogni modo, anche lui avrà dovuto dire, come dice il grande Kurt Vonnegut, così va la vita. Non si tratta di una scelta tra l'ascetismo e il materialismo dissoluto, tra la completa assenza di ogni forma di godimento materiale o di apprezzamento materiale e invece una vita dedita unicamente all'accumulo di ricchezze. Non si tratta soprattutto dell'assenza di benessere nella conquista materiale, nel raggiungimento del proprio benessere materiale che nasconde invece il vero benessere spirituale. Ma come abbiamo più volte ripetuto, si tratta del giusto rapporto tra mezzo e fine. Il benessere materiale è un mezzo per raggiungere il benessere spirituale perché, come tutti, intuitivamente e per la propria esperienza di vita sanno inequivocabilmente, se noi passiamo tutta la nostra esistenza a preoccuparci per la nostra sopravvivenza materiale, come possiamo evolvere spiritualmente? Altra cosa invece è raggiungere il benessere materiale come fine, come obiettivo e quindi, tradotto ancora prosaicamente, qui veniamo al nostro protagonista di oggi, correre dentro la ruota del cricento inseguendo unicamente il denaro anche a scapito della propria vita, cioè a scapito delle proprie realizzazioni profonde, a scapito di quella spinta che ci invita, che ci spinge a realizzare il meglio di noi stessi, però trovando la nostra strada, la strada della nostra autentica realizzazione, che vuol dire iunghianamente il nostro completamento, il completamento tra io e sé, rinunciare, alienarsi da se stessi per unicamente sottostare all'altro Dio, ovvero Mammona. Abbiamo visto nei nostri incontri e abbiamo ribadito anche in tante altre occasioni quanto seguire il proprio cuore, seguire la propria passione, spesso rende molto più ricchi che seguire il dovere di seguire il denaro per raggiungere unicamente quella stabilità economica e mantenere quella stabilità economica e crescere ancora di più soltanto nel proprio conto in banca, seguendo perciò le regole che obbliga questo tipo di mentalità a seguire. La stessa cosa ha fatto il protagonista di oggi, Vittorio Giardino, un famosissimo, forse uno dei più famosi oggi disegnatori fumettisti italiani e famosi anche nel resto d'Europa, soprattutto in Europa, anche tradotto in tantissime lingue extraeuropee, ma diciamo così la sua celebrità è soprattutto affermata nel continente europeo, il quale nostro ha iniziato come ingegnere, lavorava come ingegnere con un discreto, anzi un ottimo successo, poi ha deciso di scegliere la strada del cuore, la benedizione che all'inizio naturalmente era la strada più difficile anche perché all'inizio il suo talento indiscutibile di disegnatore, di fumettista non era certamente maturo per portargli tutti i successi che poi gli avrebbe portato. Oggi è senza alcun dubbio un autore completo, oltretutto dotato anche di una mirabile capacità di sintesi narrativa, infatti i suoi racconti brevi sono anche più efficaci e più incisivi di quelli lunghi, anche se i racconti lunghi permettono grazie al respiro della prosa intrecciata, integrata con l'ampio respiro del disegno, di cui è sicuramente un maestro e piace a tutti, a me piace il giardino perché piace a tutti, perché ha quel segno terzo, chiaro, nitido, così perfettamente ricevibile, così perfettamente descrittivo, così abilmente ricco, così sontuoso anche per certi aspetti e sicuramente così esotico perché i suoi disegni soprattutto che riguardano coste, che riguardano terrazze, sono meravigliosi con i giochi d'ombre leggerissimi, quasi giapponesi, degli elementi naturalistici delle piante e delle foglie che le arredano. Ve lo consiglio, se non conoscete il fumetto, non amate il fumetto e volete così provare un'esperienza inedita, vi consiglio soprattutto uno degli ultimi volumi pubblicati da Vittorio Giardino per l'editore Rizzoli, cioè Mondadori, che si chiama Viaggi, Sogni e Segreti e che è un'ottima sintesi della poetica di Vittorio Giardino, il quale è piuttosto feroce nella descrizione delle relazioni umane, oltretutto è un mio conterraneo, un mio compaesano, visto che è anzi concittadino, visto che è bolognese e conosce bene una certa pruderia borghesizzante che è tipica di Bologna con una certa ipocrisia di superficie che nasconde un'ipocrisia ancora più profonda. Se io non ho una grande relazione con la mia città, l'ho amata molto quando ero giovane, infatti Bologna è una bella città quando si è giovani, poi quando si cresce se ne scopre il lato feudale che per tutte le menti e gli spiriti liberi è sicuramente deludente, se non rivoltante o disgustoso. Ma non cadrò nella digressione e vi porto invece a leggervi quanto dice Vittorio Giardino nell'ultimo racconto di questo volume. È un racconto simbolico, infatti lui stesso lo definisce tale, un racconto tra il manifesto e l'apologetico, come sentirete subito, quindi un apologo sul senso della vita libera, ed ecco che torniamo al nostro discorso, e anche un manifesto della scelta di vivere secondo il cuore, le passioni, secondo Dio, dal nostro punto di vista, rispetto alla vita secondo Mammona. E il racconto brevissimo, molto incisivo, parla di questo proprietario di una barca costosissima, molto ricercata dai collezionisti, che ha bisogno di soldi, allora ha trovato un compratore. Quando si accorge che questo compratore è un essere immondo, proprio la rappresentazione di tutta Mammona, dalla fisionomia umana, ma dall'anima che potremmo rappresentare come Jabba the Hat in Star Wars, ecco che lui sparisce, sparisce, prende la sua barca, scappa, e un amico che era con lui e che lo ha accompagnato in questo ultimo viaggio di commiato verso la sua barca, e che si ritrova poi scaricato amichevolmente in un posto simbolico, perché in una cittadina spagnola di nome Algeciras, che è situata sullo stretto di Gibilterra, e lo stretto di Gibilterra sappiamo che simbolicamente, anzi miticamente, segnava il confine con l'ignoto, le colonne d'Ercole erano proprio collocate sullo stretto di Gibilterra. Ebbene, telefonando alla moglie, l'amico del nostro eroe che si chiama Diego dice, sono io cara, sì va tutto bene, lo so che eri preoccupata, ma non ho potuto chiamarti prima. Sono a Dalgeciras? No, no, non a Dalguero, a Dalgeciras, vicino a Gibilterra. Come mai? È una storia lunga, ti racconterò poi. Certo, prendo il primo aereo. No, no, Diego non c'è. In questo momento credo che abbia passato lo stretto. Non lo so dov'è diretto. Mi ha detto solo, non mi avranno mai vivo. Ed è la stessa cosa che racconta Vittorio Giardino nella presentazione di quest'ultimo racconto. Come diciamo, un racconto manifesto è un racconto apologo e lo ribadisce lo stesso Vittorio Giardino e vi leggo questo breve brano che costituisce la motivazione di oggi. L'ultimo racconto di questo volume, La rotta dei sogni, è un manifesto e un'apologia. L'occasione per realizzarlo non era allegra. Era la chiusura della rivista cortomaltese. Venne pubblicato sull'ultimo numero di quella rivista. Ci sono momenti, più di altri, in cui rimbombano nelle orecchie i soliti discorsi. I fumetti sono sotto cultura per definizione, si giustificano solo se hanno successo, non si possono pubblicare cose che non si vendono bene, il fumetto d'autore poi, tutta roba che non rende, non è un mestiere serio, è un passatempo per adolescenti, quando ti deciderai a crescere, eccetera. Insomma, gli argomenti di sempre. Il problema è che, in certi momenti, cominci a chiederti se non ci sia del vero. Se tutto sommato, gli altri non abbiano ragione. E se non sarebbe più saggio rientrare nei ranghi. Per non sprofondare definitivamente nella depressione, mi misi al tavolo di lavoro. Man mano che i fogli si riempivano di disegni, il mio umore migliorava, fino a raggiungere la nota, esaltante sensazione di felicità creativa. Può darsi che abbiano ragione, ma non mi avranno mai vivo. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare, nel tuo mondo, il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.